Salve, io sono Pio e bentornati nella Cazzocraft, la serie di Minecraft Survival con il nome più bello del web. Signori, come vedete, ci troviamo esattamente... stavo per cadere malissimo, porca puttana, però lo dicevo, ci vediamo esattamente dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio, con tanto di questi due blocchi di terra piazzati qui che, a quanto pare, avevo anche nello sfondo quando ho chiuso lo scorso video, però io non me ne sono minimamente accorto. Comunque, io sto registrando questo video direttamente subito dopo quello che avete visto l'altro ieri, mi pare, dipende poi se questo video esce tipo infrasettimanale o a fine settimana, in quel caso sarebbe tipo l'altro, altro, altro ieri, ma vabbè, dettagli. Comunque, nello scorso episodio abbiamo finito la stanza degli incantesimi, cioè finito ovviamente in parte perché, come vi ho detto, poi andrò a cambiare l'illuminazione, magari qui sopra ci metterò del vetro viola, però se ne parlerà quando avremo i materiali per farlo. Ed in questo video ero indeciso se andare a ritoccare un po' le mura di questa stanza, oppure la pavimentazione, oppure mettere qualche cosa di abbellimento, tipo barili, tavoli, non lo so, oppure andare a fare la stanza del magazzino, piccolo magazzino. Però, siccome al momento non mi va di iniziare a rompere tutte le mura o comunque abbellire, qui ci porterebbe via relativamente poco tempo, penso che andrò a fare la stanza del piccolissimo, ma proprio minuscolo magazzino. Perciò andiamo a rompere tutto qui, andiamo a rompere anche questa crafting table e poi vediamo quanto grande fare l'entrata nel magazzino, ma in realtà penso che la faremo come al solito di 3x3. Perciò andiamo a rompere, non lo so, 5 blocchi di profondità, forse bastano, perché alla fine non è che voglio fare chissà cosa. Vediamo un attimo quanto grandisce se lo faccio profondo 5 blocchi. Anche se poi in realtà lasciandolo così sarebbe un po' meh, nel senso un corridoietto, forse un po' bruttino. Non lo so, andiamo a vedere un attimo, visto così, sì, decisamente troppo piccolo, però in realtà qui potrei allargarmi di, boh, 3 blocchi. Ma sì, 3 blocchi direi che bastano e avanzano. Poi potrei allargarmi magari di 5 blocchi in avanti, quindi 1, 2, 3, 4, ah, gravel di merda. Porca puttana, dove è la pala? Pala? Eccola, eh, ok, qui rischio di perdere un po' di materiale, ma non importa, quindi troviamo 1, 2, 3, 4, 5. Perciò rompiamo tutto qui, gravel di merda, ma porca di quella puttana. Rompiamo anche questo, ok, facciamo la stessa cosa da questo lato, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Rompiamo anche questi sotto e questi qui sopra, piazziamo magari una torcia perché non si vede assolutamente un cazzo. E adesso rompiamo anche tutti questi qui per arrivare fino in fondo, così vediamo esattamente quanto è uscita grande la stanza. Fra l'altro mi sa che mi devo fare un piccone perché questo qua sta per morire. Ci abbiamo esattamente 34 di durabilità, non basterà mai nella vita per rompere tutti questi blocchi. Ma vabbè, lo usiamo finché dura e poi ce ne andiamo a fare un altro. Tanto dobbiamo lasciare anche un po' di roba perché ci abbiamo l'inventario pieno e sinceramente di perdere tutta questa cobblestone un po' mi dispiace. Ok, penso che il piccone stia ormai morendo, penso saranno rimasti due utilizzi. Esatto, mamma donna che precisione, porca puttana. Prendiamoci tutta sta cobblestone già che ci siamo, così l'andiamo a lasciare. Ok, abbiamo saturato l'inventario. Dove sono le ceste? Sono qui, non ce ne andiamo affanculo, senza motivo. Ok, ho lasciato praticamente tutto, prendiamo sti due sticchetti che ci sono rimasti, prendiamoci sta crafting table che piazziamo un attimo qui al centro. Così ci facciamo un altro piccone di diamante. In realtà me lo sarei potuto fare di ferro ma non mi andava di cuocere il ferro. Prendiamoci pure sta cobblestone prima che sparisca perché ne abbiamo comunque tantissimo. Abbiamo il cobblestone generator però in realtà tant'è che dobbiamo rompere comunque tutta sta parte qui. È peccato perdere la cobblestone perché puoi perdere tempo a farmarla quando in realtà già adesso possiamo recuperarne un botto. Perciò recuperiamone sempre il più possibile. Leviamo tutto sto schifo, sta gravel di merda deve sparire. Quanta cazzo ce n'è? Ok che potrei mettere la torcia però che cazzo? Guarda, guarda! Quattro chilometri di gravel e qui sopra ce n'è anche altra. Moverò un po' qui un casino. Che palle! Allora, facciamo uno, due, tre. Rompiamo e addio gravel, perfetto. Per chi non lo sapesse, perché magari ci sono persone che non lo sanno, se voi mettete una torcia sotto i blocchi che hanno gravità, quindi sia gravel sia sand, penso poi non ci siano altri blocchi con la gravità se non ricordo male, quelli quando cadono vanno poi a sdroppare, perché incontrano un blocco sotto dove dovrebbero cadere e quindi dicono no, non mi posso mettere lì, mi sdroppo. Cioè più che altro incontrano un blocco che non è un blocco. Cioè non so come spiegarvelo però questo è una specie di mini blocco, diciamo così, che comunque dagli altri blocchi non è visto come blocco. Sto facendo casino però cercate di capirmi. È complicato da spiegare però è così più o meno, ok? Quindi fate finta di niente. Comunque abbiamo fatto questa stanza, è grandicella, non è piccola, però io adesso voglio fare una cosa di questo tipo, quindi una specie di gradino, largo giusto due, cioè profondo due. Quindi andiamo a rompere tutta questa parte qui, perché poi qui sopra ci voglio fare tutta la zona dove metto le cist, che poi in realtà non è che ci servono particolarmente, abbiamo già il magazzino in casa, però questo qui è giusto per mettere magari la roba che troviamo quando scendiamo giù a scavare. Magari abbiamo un bordello di cobblestone nell'inventario, di dipstrate, ce ne dobbiamo liberare, veniamo qui e la mettiamo qua. Cioè questo alla fine sarà più che altro un deposito di cobblestone e dipstrate, gravel, granito, tutte ste robe che si trovano quando si scavano, perché poi alla fine tutti i minerali ce li portiamo sopra. Ora, questa parte qui mi piace, voglio andare ad alzare di uno il tetto, perciò andiamo a rompere un altro blocco. Ok, abbiamo rotto tutto qui, adesso con la cobblestone andiamo a riempire sti buchi lasciati dal gravel del cazzo, che va schifo come non so cosa. Andiamo a riempire tutto qui, andiamo ad eliminare sto blocco di merda che si è messo completamente a caso. Prendiamoci sto ferro perché è peccato lasciarlo. Ok, e questa è la stanza che andremo ad usare come piccolo magazzino. Ora, l'ho fatto squadrato perché comunque mi piace che il magazzino sia un po' spartano. Per quanto riguarda il gradino l'ho fatto perché qui ci voglio mettere tutte le ceste tipo principali da vedere anche appena entriamo, così dritti per dritti. Però al centro volevo fare una cosa tipo con dei quadri, dove andiamo a mettere magari pure uno stand con un'armatura di merda giusto per veduta e poi sopra ci mettiamo tipo i quadri con la pala e il piccone. Quindi magari questo lo riempiamo. Così al centro ci mettiamo effettivamente lo stand. Questo lo posso andare a levare. Lo stand non mi ricordo minimamente come si fa. Sicuramente devo andare a vedere una crafting table che in realtà ho qui, quindi la devo pure ripiazzare. Le fornaci comunque da qualche parte le devo mettere, ma probabilmente le metto tutte qui, messe proprio in fila. Quindi metterò esattamente otto fornaci con una crafting table in mezzo. Quindi uno e due. Ci può stare? Ma non è male. Solo che mi servono più fornaci, che in realtà mi posso fare già con la cobblestone che ho, perché ne ho un bel po'. Con queste dovrebbero uscirne cinque, non escono sei. Ok. Me ne servono sei, sì, perché sono otto, quindi due le abbiamo già piazzate. E altre tre vanno per lato. Perfetto. Qui dietro ci voglio mettere una lampada di redstone. Ora il problema è che io ce l'ho la redstone qui. Sì, ce l'ho un po'. Mi serve, mi serve del legno. Eccolo. Mi devo fare una torcina con la redstone. Ok. Ci dobbiamo andare a prendere la glowstone sopra. Che oddio. C'ho abbastanza glowstone per fare una redstone lamp? Eh. Non lo so. Vabbè, se non dovessi avere abbastanza glowstone per la redstone lamp, forse dovrei avere ancora uno di quei cosi che si trovano negli alberi azzurri del nether, che non mi ricordo come si chiamano, quindi in caso potrei usare quello. Però la redstone lamp fa decisamente più luce, quindi sì, preferirei senz'altro avere quella. Sì, infatti ho ancora una shroom light, però posso anche fare forse la glowstone... Cioè, scusate, la redstone lamp. Proviamo a vedere. Lamp si fa con un pezzo di glowstone e quattro di redstone. Ok. La glowstone tecnicamente la posso fare, perché si fa così. Esatto. E poi posso fare in questo modo. Perfetto. Ritorniamo giù. La glowstone me la porto, perché non si sa mai che riusciamo a fare un'altra o altre due redstone lamp, perché ce ne sono rimasti dieci, quindi sì, escono due pezzi di glowstone, ergo due redstone lamp. Andiamo qui nel magazzino, piazziamo la torcina sotto. Non qui, dobbiamo andare un altro più giù. Torcina qui. Dove è questo? Eccolo. Redstone lamp sopra. Ok, illumina un bordello. Adesso mi voglio fare lo stand. Stand che si fa con un smoothstone slab addirittura, quindi mi devo cuocere la... Esatto, questa è la cobblestone. Facciamo... Sono tre di stone. Non mi ricordo assolutamente. Come si fa la smoothstone? Smoothstone. Ok, con tre di smoothstone effettivamente. Ok, ci poteva arrivare. E la stone... La smoothstone esattamente? Non ci è dato saperlo. Ok, penso siano quattro di stone. Se non mi ricordo male, potrebbe essere... Quindi in quel caso mi servirebbero tipo se sono quattro. Quindi quattro per tre è dodici. Ok, dodici pezzi di cobblestone da cucinare. Proviamo a vedere se sono effettivamente quattro. Quindi facciamo così, mettiamolo in questo modo. No, così ci facciamo il bricks. E così ci facciamo lo stone slab, che non mi serve. E come cazzo si faceva la smoothstone? Forse dobbiamo ricuocere la stone. Oh, io non mi ricordo minimamente. Ma per niente è proprio. Zero. Zero più totale. Sì, 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 sì. Ok, ok. Si fa così. Direi che qua basta. Sì, infatti è qua la smoothstone. Andiamo a mettere questi ultimi due o tre pezzi di legno. Ok, ne abbiamo due. Ci serve il terzo. Se si sbriga sta pornace di merda. Ok, perfetto. Andiamo a farci sto slabettino di merda. Ok, poi ci servono più sicchettini, che però ci possiamo andare a fare. Non è un problema. E adesso facciamo così. Non era così? Era così? Ok, perfetto. E ci andiamo a mettere lo stand qui. Ora, non avevo pensato ad una cosa. E cioè, se io metto lo stand qui, non posso mettere sopra due quadri. Ne posso mettere solo uno. Ergo, questo vuol dire che questa la devo mettere uno più in basso. Questa anche. Se rompo questa me la dà. Sì, ok, perfetto. Magari rompiamo pure questo. Questo deve andare uno più giù. Però io a questo punto sto carbone me lo prendo perché è peccato lasciarlo. Ok, una volta preso tutto il carbone riempiamo questo gigantesco buco che si è creato. Che è più o meno equivalente a quello di molte delle madri, delle persone che mi stanno sul cazzo. Quindi riempiamo tutto qui. Tecnicamente questo lo possiamo andare a chiudere in questo modo. E qui possiamo andare a mettere la torcina di redstone con sopra la redstone lamp. Mentre qui ci va esattamente la crafting table. Perciò questa va così, questo così. Qui ci va lo stand. E qui sopra ci posso mettere due quadri. Perfetto, perfetto così. Alla grande, fra l'altro è pure carino sta crafting table messa così a terra. Ora, i quadri. Io dovrei avere la pelle per poterli fare. Che poi non sono quadri, maledizione a me che continuo a dire quadri. Ma sono cornici. Come quelle che abbiamo messo sulle casse nel magazzino sopra. Quindi adesso andiamo sopra qui. Dovrei avere ancora qualche pezzettino di pelle se non li ho usati tutti per fare i libri. Ma spero di no. O meglio, sono abbastanza sicuro di no. Dovrei averne ancora qualcuno. Oddio, forse no mi sa perché se non sbaglio avevo contato anche quelli che già avevo. E quindi tecnicamente non ne ho più. Cazzo. Questo potrebbe essere un problema. Eh sì. Però c'ho due cornici, quindi sti cazzi. Ok. Non è invece un problema per un cazzo. Assolutamente. Ci facciamo un piccone. E ci facciamo anche un cazzo qui perché non c'ho assolutamente nulla. Dobbiamo scendere giù. Però bugia, in realtà avevo delle sticchettine se non ho visto male. Esatto. Giusti giusti per farci un piccone ed una pala. Quindi facciamo il picconazzo e la pala. Ok. Scendiamo giù. Wiii. Che bello scendere così, mamma mia. Andiamo qui dentro. Mettiamo i due item frame qui sopra. E qui ci mettiamo il picconazzo. Girato. Oddio, lo voglio mettere dritto? No perché sembra una freccia. Giriamolo così. E la pala allo stesso modo. Ok, perfetto. Eh. Oddio. Eh, forse la pala mi piace più così. Non lo so, proviamo pure così. No, mi piace più che guardano verso sinistra. Rigiliamoli. Ok, sì, decisamente meglio. E qui ci dovrei mettere un'armatura del cazzo. Il problema è che io ce l'ho un'armatura del cazzo? Assolutamente no. Non ho manco materiale per fare un'armatura del cazzo. Anche volendo. E quindi mi sa che per adesso niente armatura lì. Per quanto riguarda invece le chest, devo farmi un bel po' di chest. Considerando che qui ne abbiamo sei. Ok. Me ne servono un bel po'. Quindi andiamo, oddio, non andiamo ad usare questo. Andiamo ad usare il berce, che va schifo. Perfetto. Lo trasformiamo tutto in planks. E ci andiamo a fare un bel po' di chest, il più possibile. Ecco, qua ne escono otto, ne usciranno nove in totale. Ok, perfetto. Sono dispari, ma vediamo di farcene bastare. Considerando che qui vanno tutte doppie chest. Ok. Ce ne saranno altre sei qui. Quindi manca solo una fottutissima chest. Prendiamo un altro di questi, dovrebbe bastare, sì. Perché poi tanto facciamo quattro planks e con le quattro che già abbiamo facciamo l'ultima chest che serve. Ok. Non metto le chest in alto per il semplice motivo che comunque non potrei aprirle. Le dovrei comunque mettere solo estetiche. E la cosa sinceramente non mi emoziona particolarmente. Almeno che di non mettere del vetro qui sopra. Che però potrebbe essere decisamente bruttino. E la cosa non mi intriga particolarmente. Se devo essere sincero. Però in realtà un'altra cosa che sto pensando è che potrei cambiare lo sfondo. Cioè, prima di tutto dovrei in realtà anche cambiare qui sotto sto schifo. Perché che cazzo è? Cioè, fa cagare sto pavimento così. Quindi andiamo a levare tutta sta merda. E andiamo a mettere un altro materiale. Magari usiamo un materiale che non abbiamo usato. Tipo per l'appunto il granito. Anche perché se non sbaglio, con il granito ci posso fare diversi blocchi. Infatti ci posso fare il polished. Ci posso fare. E basta. Il granito normale. Ok. E ok. Niente. Ci posso fare il polished. Vaffanculo. Faccio il polished. E uso questo. Facciamo così. Prendiamolo un po'. Vediamo come ci sta. Eh eh. Eh. Non è che sia bellissimo. Però almeno lo usiamo. Anche per alternare un po'. Perché se no. Si cazzo di blocchi di granito. Non li useremo mai. E poi. Tendiamo ad usare sempre legno. Ovunque. Eh. Inizia ad essere poi un po' bruttino. A sto punto direi che giusto per usare un po' di più il granito. Usiamo anche come sfondo. Quindi facciamo tutta sta parte in granito granitoso. A sto punto andiamo a rompere pure qua con gli time frame che rimangono intatti volanti. Ma eh. Ci hanno messo tre ore a sdropparsi. Scusa. Ma. Mi sembrava strano che rimanessero. Ma. Perché ci hanno messo così tanto tempo a sdropparsi. Ma. Che senso ha. Cioè non è che il gioco sta laggando. Sto giocando in locale. Non sto mica su un server. Non l'ho capita sta cosa. Ma. Assolutamente. Per niente. Boh. Vabbè. Eh. Non facciamoci domande. Minecraft. A volte. Tende ad essere. Particolarmente strano. Infatti. Non ricordavo che. Lì. In frame rimanessero così. Volanti. E infatti. Non rimangono così. Allora. Prendiamoci un altro po' di sti blocchi. Dovrebbero. Teoricamente. Bastare. Tanto calcolate che tutta sta roba. Tanto. Non. Non la vede nessuno. Essenzialmente. Leviamo. Pure questo qui dietro. Andiamo a. Piazzare l'altro. Mettiamo di nuovo. L'item frame. Qui e qui. Con sopra. La pala. E il piccone. Quindi. Rigiriamoli. Ok. Perfetto. Come sfondo. Non è particolarmente brutto. Se consideriamo che comunque qua. Magari ci metto un'armatura di ferro. Comunque stacca bene pure con lo sfondo. Le ceste comunque coprono il tutto. Qui a sto punto direi di farci comunque qualche altra ceste. Magari prendiamo questi di acacia. E ci facciamo. Mmm. Boh. Quanti escono? Sei ceste. Ok. Facciamo così. È vero che sopra comunque non le possiamo aprire. Però giusto per estetica. Che cazzo ce ne prega. Ci serve fare altre due ceste. Ma se non sbaglio ce le abbiamo sopra. Vado un attimo sopra a controllare. In caso poi riscendo con le ceste. Perché non voglio fare ceste con i due in mente. Se già ce ne ho due o tre. Ok. Come immaginavo. Effettivamente delle ceste ce l'ho. È una sola. Ma ce l'ho. Sempre meglio di niente. Alla fine ci risparmiamo di farne una in più. Perciò andiamo giù. E piazziamo anche questa. Troppo bello. Troppo troppo bello. Andiamo a piazzare sta ceste qui. Ci andiamo a fare l'ennesima ceste. Per la quale comunque mi serve il legno. Che a quanto pare non ho. Quindi uno e due. Planks. Planks che diventano ceste. E andiamo a piazzarla qui. Qui ci vanno le tre ceste che abbiamo da quella parte. E direi che come entrata non è neanche benissimo. Cioè a vederla non è proprio bruttissima dai. Non è bellissima. Però non è neanche brutta. Parliamoci chiaro. Ora per quanto riguarda le mura. Non so come voglio farle. Però. Seguendo sempre il ragionamento. Che ho seguito prima. Usando il granito. Probabilmente useremo la diorite. Visto che l'abbiamo usata. Per adesso solo e soltanto. Se non ricordo male. All'interno della parte superiore. Della farm di strighe. Cioè dell'entrata. E non l'abbiamo più usata da nessuna parte. Se non erro. E giustamente. È un po' un peccato. Perché alla fine. È un blocco carino. Non è bruttissimo. E potremmo tranquillamente utilizzarlo. Ora. Qui c'è della gravel. Facciamo così. Ok. Perfetto. Qui c'è un botto di gravel. Possiamo fare in questo modo. Ok. Qui la stessa cosa. Rompiamo tutto. Qui ovviamente. È inutile pure dirlo. Dobbiamo riempire. Perché non è che possiamo rimanere con i buchi sul tetto. Rompiamo sta torcia messa a caso. Ok. Perfetto. Il pavimento. Anche più o meno la stessa cosa in realtà. Solo che. Per adesso. Vado a levare un attimo. Tutta sta parte qui. Perché comunque. Sarà fatto con lo stesso stile delle mura. Mentre. La porta principale. Adesso andiamo a vedere un po'. Che stile utilizzare. Regà ho sentito un rumore. Regà non so se lo state sentendo. Ma si sente il rumore della farm di stringhe. Cioè siamo vicino alla farm di stringhe. No. Qui non si sente. Perché qui si sente l'alontananza. Cioè. Da quella parte abbiamo la farm di stringhe. Ma davvero. Cioè se io salgo così. Da quella parte. Da quella parte c'ho l'entrata. No. Da questa parte c'ho l'entrata. Quindi qui sopra c'è tipo la fontana. Porca puttana. È tutto così attaccato. Cioè praticamente se io. Dovessi decidere di fare una stanza da questa parte. Rischio di incontrare in qualche modo la farm di stringhe. O comunque incrociarla. Ah. Beh. Bene. Ma non benissimo. Ma a tutti gli effetti. Non benissimo. Non è per niente una buona cosa. Eh. No. 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 Assolutamente no. Non lo so. Spero di non incontrarla. Ma. Non è una buona cosa. Anche per il rumore in realtà. Perché comunque. Da abbastanza fastidio. Prima di fare questi blocchi di diorite. Vediamo che abbiamo di diorite effettivamente. Allora. Tutti i blocchi normali di diorite. Più la polishade diorite. Con il quale posso fare tutto. Tranne eventuali bricks. O eventuali wall. Ok. Adesso ci accontentiamo quindi della polishade diorite. Cerchiamo di capire come ci sta. Considerando che comunque. Questo qui non lo vediamo. Lo intravediamo soltanto qui al centro. Direi che fare tutto con la polishade diorite. Potrebbe non essere malissimo. In realtà questo. Lo posso anche levare. E metterci la cobblestone. Così risparmio anche un po' di blocchi. Ok. Allora. Non è malissimo. Guardiamolo così. Non è bruttissimo. Ma non è neanche bellissimo. E sa tanto di prigione. Eeeh. No. Non ci sta assolutamente bene. Eeeh. No. Perché veramente. Sa troppo di stanza. Da prigione. Allora. Se non calcoliamo che qui. Comunque si vede sta parte. No. Anche così. Non è carino. Non è particolarmente bello. Però forse. Potrei fare una texturizzazione. Fatta con lo stesso granito. Fatta tipo così. Dove. Qui magari. Potrei fare una cosa di questo tipo. Non lo so. Sto improvvisando. Ad essere sincero. No. Fa abbastanza cacare. Sì. La mia idea era quella di fare tipo. La faccia di un creeper. Però. Si espande un po' troppo. Arriva. Al limite con il muro. E la cosa non mi piace. No. 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 Leviamo sto schifo. E dobbiamo capire come fare il tutto. Altrimenti. Potrei levare. Stadiorite proprio da qui. E la potrei usare per il pavimento. E per il pavimento. Ancora ancora. Ci potrebbe stare bene. Però le mura. Resta il fatto che non saprei come farle. Perché finirebbe. Comunque per diventare un muro in legno. Perché già lo so. E alla fine. Tendo ad usare poi sempre la stessa roba. Bene ma non benissimo. Vabbè. Intanto leviamo tutto sto schifo. Ok. Proviamo a piazzare. La diorite come pavimento. Che in realtà. Forse come pavimento. Ci sta bene. Perché alla fine è molto pulito. È un po' comunque. Ricorda delle piastrelle. Poi o meno. E ci potrebbe pure stare. Non è malissimo. Forse ci vanno pure. Giusti giusti. I blocchi per fare il pavimento. A posto. Ne sono avvanzati giusti. Giusti quattro. Ok. Come pavimento non è male. Capiamoci. Non è male per niente. Alla fine è molto molto pulito. Per una stanza. Magazzino. Piccolo magazzino. Ci può pure stare. Non è malissimo. Il problema è. Come andare a fare le mura. O meglio. In realtà il problema è pure. Texturizzare un po'. Staparte. Perché. Così effettivamente è un po'. Troppo. Pulita. Se volessi tipo. Texturizzarla così. Rompendo un po'. Tutto così a caso. Ok. Proviamo a metterci il granito normale. Vediamo come sembra. Ok. Ok. Va bene. Forse però farei tipo. Questo qua. E lo smuffo. Lo metterei qui. Al centro. Ok. Anche se è un po' strana sta cosa. Cioè scusa. Ah perché c'è il bordino grigio. Infatti sta oggetto. Che cazzo è. Va sul blocco di. Cos'è. Di orita questa. Sembra. Infatti strana. Però oddio. Non è che mi dispiace. Ah. Ci sta bene. Oh come pavimento texturizzato. Carino. Molto semplice. Molto molto semplice. Il sopra delle fornaci. No. Perché è rovinato. Questo è molto più clean. Molto più pulito. E per quanto riguarda il mura. A sto punto. Boh. Perché potrei continuare. Facendolo con la. Col granito. Però texturizzato. Come ho fatto qui. Però secondo me sarebbe brutto. Oltre al fatto che. Sarebbe scuro. Che altri blocchi ho eventualmente. Ehm. C'ho un cazzo. I blocchi sono questi. Ehm. Non posso continuare ad usare. Comunque cobblestone. Stone. E puttana di varie. A meno che di non voler fare. Tipo. Liston bricks. E quindi facendo liston bricks. Effettivamente. Posso fare. Tutto in. Stone bricks. Stone. Cobblestone. Tutto un po' mischiato. Che per una stanza del magazzino. Ci vuole pure stare. Ok. Sono stato interrotto. Da mia madre. Che come al solito. Mi chiama il telefono. Ma questi sono dettagli. Però. Essendo stato interrotto. Ho notato anche che. Guardando l'orario. È passata più di mezz'ora. Quindi. Quello che stavo dicendo. E quello che stavo facendo. Lo finiremo nel prossimo video. Perché comunque. Tanto. La stanza del magazzino. L'abbiamo iniziata. Ha preso già forma. Ci manca essenzialmente. Le mura. Il corridoietto. Con l'entrata. E il tetto. Direi che lo possiamo fare benissimo. Nel prossimo episodio. Oltre ovviamente. Vabbè. A. L'armatura. Che metteremo poi. Un giorno. Di magazzino. Direi che per oggi. Può bastare così. Se il video vi è piaciuto. Mettete like. Se non vi è piaciuto. Mettete dislike. Ma commentate. Dicendomi cosa. Non vi è piaciuto. In modo tale. Che possa migliorarmi. Se vi sono simpatico. Iscrivetevi. Magari attivate la campanella. Che a me come al solito. Non dispiace mai. E noi. Ci vediamo. Nel prossimo video. Ciao.